Mi piace molto, moltissimo lo zafferano e ho impiegato un po' di tempo a trovare un liquore, un alcolico, al gusto di zafferano perché volevo farmi lo spritz allo zafferano, una bevanda che ho assaggiato qualche tempo fa a Venezia tra l'altro in questa situazione bellissima dove c'era un po' fuori dai circuiti dei turisti c'era questo spiazzo che naturalmente dava su un canale, avevano allestito una specie di chiatta di legno e lì c'erano questi ragazzi che servivano dei cocktail molto molto basic nel senso che i bicchieri non erano di quelli fighi, insomma era molto bella la situazione poi si poteva stare seduti sugli sdrai e lì avevo provato questo spritz allo zafferano che era buonissimo ripeto, lo zafferano è uno dei sapori che preferisco e da allora è iniziata la mia ricerca del liquore allo zafferano ce ne sono diversi in giro che dicono di avere lo zafferano come ingrediente però poi vai a vedere, effettivamente c'è lo zafferano però c'è anche l'anice l'anice è uno dei gusti che a me non piacciono, non solo ma quando esiste insieme allo zafferano copre completamente il gusto dello zafferano ci sono un paio di liquori antichi di quelli di quando io ero bambina che ricordo erano allo zafferano ne abbiamo provato diversi però sempre con risultati deludenti anche un po' insomma una volta che compri una bottiglia di liquore poi non è che lo assaggi dici non mi piace lo butti poi te lo devi pure in qualche modo assorbire io non sono una persona che beve alcolici quindi durano anni ecco qualche giorno fa al supermercato ci siamo di nuovo fatti prendere dall'entusiasmo delle mie passioni e abbiamo provato un nuovo liquore che nuovo non è mai vecchissimo è il liquore strega io mi ricordo benissimo la pubblicità dove c'era Silva Coscina affascinante conturbante e ricordo lo slogan il primo sorso affascina il secondo strega bellissima tratta pubblicitaria bellissimo slogan complimenti ai creativi e abbiamo trovato mi sa la pozione magica perché il liquore strega un po' di liquore un po' di vino frizzante o prosecco e poi soda ed è buonissimo cubetti di ghiaccio tra l'altro ci stiamo anche allestando il balconcino con poltroncine e cose così spettacolari e vi assicuro che sembra di essere sul canale di Venezia a sorseggiare lo sprizza lo zafferano devo aggiungere adesso non so se un rametto di menta oppure un po' di limone una scorza di limone non lo so qualche ciliegina sulla torta manca però diciamo che al 95% ho il mio cocktail dell'estate è venuto progetto